Sono Saria Gagliano, sono nata in Ecuador ma sono cresciuta in Italia. Sono candidata di potere al popolo perché voglio cancellare una vergogna. Non è possibile che in questo paese non sono cittadini italiani i bambini nati o cresciuti qui da genitori immigrati. Cancella questa vergogna, vota potere al popolo!